Sto facendo un bel giro nei quartieri di Taranto e in modo particolare mi sto soffermando in questi giorni sul quartiere Paolo VI. L'ho definito la periferia delle periferie proprio per lo stato di abbandono in cui giace. Mi trovo infatti presso la struttura dell'ex ospizio, la vedete una struttura completamente abbandonata a se stessa. Già intanto è assurdo che resti così, andrebbe riqualificata, ristrutturata, ma questo è un discorso già più ampio. L'aspetto più grave è le discariche a cielo aperto che insistono in quest'area. Vedete proprio qui materiale di risulta, persino pezzi di divater, tutto materiale di edilizia per non parlare poi dell'erbaccia e quant'altro. Quindi ragioni gravi, pesanti dal punto di vista della sicurezza per quanto attiene all'igiene. Ma vedete ancora l'aspetto più inquietante, vedete pare che queste siano, anzi sicuramente sono delle parti dei tubi di amianto e qui il problema diventa davvero gravissimo visto che si sprigionano le particelle di amianto e sappiamo il carattere cancerogeno delle stesse. Qui addirittura altri, un altro water e gomme di auto. ormai è diventata, ripeto, una discarica a cielo aperto. L'ex sindaco Melucci, lo ripetiamo sempre perché poi è la verità, era rinchiuso a palazzo di città, non ha mai girato la città e non sa quindi che c'è questa situazione. Guardate, possibile che l'amministrazione comunale in quattro anni e mezzo non si sia mai degnata di intervenire e ha abbandonato questa zona e l'ha fatta diventare una discarica a cielo aperto. Poi non stiamo parlando di un'area assolutamente nascosta, parliamo di un'arteria, vedete, molto ma molto ampia appunto che conduce poi sul vialone di Paolo VI. L'amministrazione è completamente incurante di questo problema. Ora che amministreremo la città i sondaggi, studi specifici ci danno tra il 47 e il 53% come prima forza politica di Taranto, innanzitutto ripristineremo le circoscrizioni come strumento di filtro per segnalare certe situazioni e poi creeremo anche un ufficio, l'ho definito, di pronto intervento, di pronto soccorso, le segnalazioni e immediatamente l'intervento con le squadre ad hoc, interventi relativi alla vivibilità urbana. E qui parliamo di assoluta invivibilità urbana. Il cittadino paga le tasse, già Taranto vive il dramma ambientale, non merita ancora discariche su discariche, inquinamento su inquinamento. C'era una volta l'amministrazione Melucci, la spazzeremo via per ripulire la città e ripulire anche queste zone estremamente degradate.